rete 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 ha segnato mi pare enrico enrico da fuori aria un pallonetto un tiro bello teso arco che si è insaccato nella porta avversaria 3 a 0 in questo momento stegare via ecco la porta penso di sì perché vedo lo schermo mi da partire il sole ok 3 a 0 in questa prima parte del primo tempo doppietta di larnet numero 9 il nostro giallorosso e gol di enrico caporale che li segna dopo un lungo digiuno ma causato anche dalla sua assenza per malattia che sia di buona auspicio oggi questo gol di enrico caporale ecco luca rulli luca rulli e scambia con alessandro niente riparte